il grande fratello perde un altro protagonista nella prossima puntata del reality show condotto da alfonso signorini sabato 23 novembre 2024 si riapre il televoto che questa volta sarà eliminatorio il pubblico dovrà votare il proprio geffino preferito tra i cinque concorrenti in nomination con il meno votato destinato ad abbandonare la casa più spiata d'italia dopo le recenti eliminazioni e ritiri il grande fratello si prepara a salutare un altro concorrente tra le tensioni e i flirt all'interno della casa la prossima puntata promette emozioni e colpi di scena con un nuovo televoto eliminatorio chi sarà il prossimo a lasciare il reality show in nomination per il televoto del 23 novembre ci sono alfonso d'apice amanda lecciso clayton norcross jessica morlacchi e lorenzo spolverato le preferenze del pubblico sembrano essere a favore di jessica seguita da lorenzo e clayton alfonso e amanda rischiano di essere eliminati con il giovane napoletano al centro delle dinamiche della casa il televoto si preannuncia molto combattuto con i concorrenti pronti a giocarsi la permanenza nel loft di cine città chi sarà il prossimo a dover dire addio al grande fratello restate sintonizzati per scoprire gli esiti del televoto e le reazioni dei